Ciao ragazzi ho un nuovo video di Gabriel Eh si Siamo con Gabriel Gabriel non ha un senso E' morto Che non è godurioso Allora ci spiego A Gabriel Allora sto a fare un video Hai capito? E poi lo metto a Youtube O poi lo metto a Youtube Ma sei morto una volta Allora non ha senso No non sei godurioso Sei morto in una parte Aspetta Ah si Allora aspetta che Vale solo per te Il coso che vingi Godurioso vuoi dire Allora Perché avevo detto Aspetta voglio vedere una cosa Good Dunque Sì Allora D'ochetto Ai Parla ma sono anglosi tutti i truscati allora poi voglio vedere in una parte io voglio farlo io voglio io voglio bugiardo che ho visto che sei morto e c'è pure la registrazione mi sembrava che era truccato no però c'è il video si è visto che sei caduto due volte vedi non ci sono tre volte prima perché sei morto tre volte no sai tu sei caduto come non lo so ma ok si mi sembra no io credo di no che non muoro goturrioso non ho preso il checkpoint non me lo prende eh lascia perdere manca non me lo prende io ne ho forse è truccato ma comunque le schede ne scompaggiano si lo so forse sono quelli che non scompaggiano che non scompaggiano ma quindi ora tu stai facendo video si ve lo voglio mettere ancora in vero c'è c'è l'ho fatta aia quella era trucca schifoso gioco sono arrivata alla fine siamo arrivata a venire a rubire un percorro comunque non è così scioppo lo so ma questo jackpot spero posso prendere ah si questo si può prendere ma funziona pure questo io anche ci vorrei prendere io credo che il jackpot che è una truffa io credo che questa aeronautica non ti temerà mai più no no cado 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 ma questo jackpot non ti può prendere guarda guarda salvo eh salvo eh gabry so volare so volare guarda senza niente questo va aspetta che mi metto nella normale speed no ecco qua vedi questo viaggio vedi questi colori tu ora lo tocchi uno e vuoi toccare per volare poi puoi volare così come tiktok ogni volta e poi puoi volare così io vado a fare un po' arrabbiare persone non è una donna sai ma io non lo vedo ma ma perchè la camera è attivata no ahhh ahhh dobbiamo cambiare gioco ga si o no primo prima si 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 allora no no così poi allora Allora, dove lo mettiamo? Allora, tu dici che sei bravo in parkour, ok? Dici, Gabriel? Sì. Ok. Il problema è che loro non ti sentono, ma non mi interessa. Come loro non mi sentono? No, funziona solo con Discord. Con Discord è tipo Whatsapp, però diverso. E ora ti serve un'email, un'account. Ok, perché questo accanto mi chiamo con Discord? Dove chiamare tutto qui. Dove scaricchiamo il gioco? E ora ti ripetisco? E ora ti ripetisco? Allora, ti sento un banco immiki che loieversi a fare. Tu non avete un po' molto右io. Allora, qua che voglio continuere. E ora, posso andare a mettere? C'è un po'. Espirra. e e allora mi sento una parte ma parte della parte sono e hanno sempre dei grandi e segui messaggi sono riusciati o riusciati che vede 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 arrivo veste vende vede las vede 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.